fermi fermi che si vengono a fare come che siamo venuti a fare siamo venuti qui a vergaio perché c'è la fiera del cioccolato delle castagne si può stare chi vu cercare e poi siamo venuti per conoscere benigni oh ma dov'è benigni di roberto benigni quello famoso nazionale a vergaio e di qua oh ma dov'è benigni come fa l'anzione in inglese sai oh ma dov'è benigni questo è lì no del capo sotto che può cantare solo qui caca di morti oh ma dov'è benigni che c'è che c'è ma dov'è benigni insomma per dirvi che noi domenica 14 ottobre siamo a vergaio in diretta su dtv canale 89 su tutte le nostre pagine alla festa del cioccolato della castagna basta a vergaio a vergaio su provincia di provincia di di prato